Il secondo, lei sostiene che il cultura e il turismo sono gli assi nella manica per rilanciare lo sviluppo dell'economia nel periodo di Venezia Giulia nei prossimi 5 anni. Tre cose che farà qualora dovesse essere rialetta, nei primi diciamo 100 giorni. Bisogna creare una promozione generale, unica del nostro territorio, dove si mette insieme la qualità che questo territorio stupendo ha, quindi dal castello di Milamare, a forma di franze, non separando le risorse ma mettendole insieme. La seconda, tentare una forte presenza sui capi stranieri che in questi anni non siamo riusciti a ricercitare come non volevamo. E la terza, motivare anche il sistema locale, quello che non sono imprese, ma anche dell'amministrazione comunale, del valore dell'agroalimentare.